Ecco che una volta tanto LGG si trova avvantaggiato nei confronti dei propri compagni di squadra e può riprenderli mentre arrivano. Ma tutto ciò è dovuto soltanto al fatto che avesse uscita la catena, perché è una bicicletta troppo morbida. La bicicletta è molto morbida, vediamo sfilare una generazione perduta, si va verso Campo Felice o Rocca di Cambio.